allora non ho capito bene come funziona questo diamine di live quindi questo è un piccolo test chi ancora sta guardando è un test allora 0 spettatori meglio così così almeno non ho problemi durante il testing un po' secolo schermata non prendo su youtube vediamo se mi segna che sono in il live allora torno un po' come cavolo funziona funziona ok vedo già che qualcuno sta commentando quindi comincio a credere che funzioni qualcuno scriva tipo qualcosa a vedere se funziona ecco notare la ripetizione ok togliamo il video del mio stesso video altrimenti mi sento doppio e non ci capisco una mazza allora qua mi segna fine trasmissione ci siamo qua i spettatori e ci siamo 5 uovo mi sento già già gasato per questo testing ok allora così mi registra tanto firefox per logica credo almeno mi dovrebbe registrare tanto firefox ciao qua c'è youtube facebook ok vedo che per ora funziona mi segna anche la voce e tutto quanto facciamo un testo un pochino più più pratico la voce me la registra quello me la registra quell'altro me la registra andiamo su google 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 e dove 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 mi sfugge il nome addio come la total no boh c'è con happy wheels lo facciamo prima happy wheels 2 ecco total jerk face vediamo se mi registra anche bene happy wheels tanto per fare un piccolo testing vaffanculo tomico ecco non trovo che dovete dopo e se mi registra anche la voce delle altre cose quando due notifiche su facebook ok allora allora ho nato in tutto fk perché c'era il mio paddock cavolo premuto mi piace mi piace metto anche il mi piace no non vedo ok ho chiesto teniamo qua scendere allora ho nato che leggo sto venendo in live intanto comprando stipendolo su torte comprando per mo aiuto allora fermi tutti fanculo il volume ok vediamo un po' come registra happy wheels ho trovato lo scritto scendere con f alfawords 2 dovremmo ancora iniziare a farlo quindi non si sa cosa ti sei perso? niente sto vedendo se mi funziona lo streaming ho soltanto un test quindi nulla di strano ok proviamo a fare qualche velo di apv potrei tanto vedere se registra haunted mansion 4 se registra bene così così potrei fare di di live su su giochini così sul su youtube a fanbiped boom boom yeah fuck yeah porta ah riporta oh che what the fuck figo no oddio 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 aiuto aiuto ho perso le gambe e tu ti stai mangiando un povero tizio non è una bella cosa ma neanche neanche un po' ok mi sono incastrato porca chi è che mi scrive su facebook aiuto ok andiamo indio andiamo indio mico mico concentrati ok boh andiamo avanti chi è che mi scrive su facebook vabbè bruf vai vai stacca quella gamba stacca quella gamba tanto non ti fai più niente stacca quella gamba ok quella pianta non mi spiega ira 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 per niente aia devo andare a non tornare al menu perchè ho tolto la musica adesso ci penso ah non posso togliere metterla anche da qui giusto vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa grande grande mi sono preso qualcosa no sto provando sempre questo streaming non ti sei perso niente tutto zitto ok bro va bene va bene tanto per fare i figli proprio adesso schien andiamo a fare il mio livello l'unico livello che mi hanno fatto shen tanto per il gusto di farlo c'è ancora è ancora vivo quel livello shen the best per shen ah ce ne sono due oh qualcuno ha fatto un altro sempre rex 96 non lo sapevo che aveva fatto due livelli eeeh i migliori youtuber dell'anno fai un salto con la tua amante prima di spazio di stare non uccidere i fan vabbè yeeey shen 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 yeeeh no a parte i scherzi facciamo i seri black flip fuck e due yeeeh vabbè ho ucciso un po' di fan impenna la moto per fare bella figura yeeeh no che cosa cavolo ho fatto yeeeh monetine 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 è mancata una voglio vedere però cosa c'è più avanti yeeeh ok livello molto simpatico vabbè dettagli e c'è l'altro per shen odio il giallo vabbè facciamolo stesso salta giù black flip double black x double black flip back flip ok uno yeeeh ce l'ho fatta non sono morto incredibile cosa stai facendo Mino cosa sta vabbè è vivo yeeeh ed uno e due e tre pappan pip ok riconcentriamoci andiamo andiamo go sun go sun go dead go dead cosa cavolo ha la gamba dietro oddio 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 guardate la gamba oddio lo fa ancora no si era tipo diventata una roba spastica non so oh cosa fai stai scherzi oh cosa fai le flip oddio yeah monetina mina porca puttana sono ancora vivo ero vivo ero vivo ero passato le moto non è passato le moto ero vivo dettagli però che cazzo ho detto ero vivo passato le moto ok meno canne prima di fare i live meno canne molte meno canne yeeey jump jump style jump style mi dicono jump style bang 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 no volevo far uccidere il figlio invece sono morto io che figata però guarda come parte il sangue tipo a rotella c'aveva stile c'aveva stile c'aveva stile c'aveva stile voglio fare un ultimo livello prima di bloccare questo live glass voglio fare una sfida con glass anzi prima vedo un po' i commenti nuovi che avete fatto allora quando esce Faword si buona la prima volta che commento ogni video live si buona quando esce Faword l'ho già finito ma ti lagga non lo so cos'è Faword è il film che ho fatto con cosa scendi iscrivi al mio canale no tu ho già risposto cioè non mi scrivo così a random tu zitto stronzo non mi sa veramente però che sta laggando il video loading level vabbè comunque ragazzi perché ho visto questo video è soltanto un test adesso interrompo lo streaming e penso che pomeriggio ne farò uno più serio insomma era per provarlo più che altro quindi visto che total jerk face non funziona ah non so che fare per pranzo basta idea geniale cosa voglio fare per pranzo? basta è l'idea vediamo passato di Ruins of Dead eh l'ho già registrato tutti quanti devo soltanto montare gli ultimi tre episodi nulla di difficile ragazzi e vi piace cerco sul suo canale bravo 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 davi bravo davi bravissimo puoi vedere anche se funziona la webcam no però arriva in ritardo avverso che noto ok 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 quindi per bloccarlo devo fare fine trasmissione per logica eh sì qua abbiamo il nostro facebook vediamo se apro tipo una filenza di steam sopra la vede no vede soltanto eh cosa qua firefox vediamo se riesco a fare qualcosa di un pochino più tecnico tecnico impostazioni no dov'è dov'è condizione schermo se faccio desktop condizione sinistra selezionata se tipo apro steam aspetta che metto in micro così vedo se mi vede anche steam però non vedo se mi vede qua stupido stupido ah si mi vede anche steam yeah quindi vedete il mio steam i miei dc euro su steam voglio provare a lanciare un gioco ok tutti sposti qua ok lanciamo minecraft tanto per essere facili veloci e gratuiti boh mi appare sì mi appare cos'altro posso far partire mmm per una cartella random vediamo un po' si si vede le immagini andiamo se si vede si vede si vede si vede in grande idea ok per questo che mi chiede saluto questa immagine del blaze donna blaze ok provo a far partire invece un gioco full screen m anche per un attimo vedere se mancato funziona funziona lancio il tecnic launcher lancio il tecnic launcher eeeh techit boh dai techit dai 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 minecraft dai cazzo dai dai ce la puoi fare dai grande dai dai mojang il team mojang adesso non potrò vedere se si vede che ingrandisco lo schermo no se qualcuno ha scritto qualche altro commento intanto ehm fa slender mmm si lo farò slender proprio in un live qua c'è gente che mi scrive per fare un streaming che fa leggimento a scatti grazie luca per avermi avvisato anzi facciamo un test devo fare un altro test chiamiamo luca ok boh qua si vede luca vediamo se mi risponde ok grandissimo mi aiuti per lo streaming per vedere se si sente anche altre persone ecco mi stai anche supportando in questo momento perchè vedo se si sentono anche altre persone t'ho chiamato visto che mi hai anche scritto per vedere se si sentono anche altri microfoni nello streaming era per se stare visto che non ho mai provato ok vediamo minecraft funziona ok giriamo un po' di per il mondo ecco tu mi dirai se scatta mi scatta persino minecraft che figata scatta un po' ma boh ma sta anche lagando perchè sto anche realizzando un video anche per quello ok minecraft va prendiamo un gioco a full screen intanto tu supportami mi dici che si stanno scrivendo boh anzi dimmi un po' di commenti cosa mi stanno scrivendo allora superius 999 ah per penumbra non ho voglia detto papale papale ok proviamo a provare a startare darksiders 2 eh che ovviamente non è origine infatti sto provando sarà veramente dura ok vediamo un po' cosa faccio ok sta scatto sta cagnacchina cosa che sto dicendo sta cagnacchina oddio stanno in pala perchè mi va anche lento a rilento il pc ok ho avviato darksiders 2 da tipo qualche secondo non so se si è avviato lo streaming no se è è scivile se non sono completa avviato davvero ok allora quanto vale a chiudere no desktop va esci mi si apre la tua schermata chiudi no infatti non si vedeva rimane ha bloccato desktop quindi posso fare tanto giochi che non vado in full screen interessante che però sto scoprendo sempre più cose di questo streaming che figata vediamo un po' cos'altro posso provare poi le immagini si vedono proviamo a fare un attimo quella roba che posso allegare un video al ogni video playlist vediamo se me lo fa shen mettiamo e se si può bucadrento adesso vabbè diventa dovrebbe sentire anche io che parlo madonna che casino che va quando ho fatto casino ok tolto ok shangio che mv3 fai kukimama ragazzi non mi prendete per il culo non mi prendo oddio kukimama è un'idea però mi ispira mi ispira non l'ho abbandonato è che semplicemente non ho spazio per installare nuovi giochi e per chi non capisce chi sto parlando guardate qua apro skype con questo individuo questo che sto girando intorno giochi in super meat boy infatti è uno dei prossimi made in kitchen ecco adesso infatti sullo streaming sto facendo vedere te infatti c'è un po' di ritardo ma è normale che nel streaming c'è il ritardo aspetta un attimo ciao ma sto facendo uno streaming si sto registrando infatti ciao saluta youtuber saluta di ciao youtube vieni qua vieni qua vieni qua allora gente in questo primo streaming attenzione faccio riconoscere mia madre che quella che mi interrompe sempre nei video fai un saluto ciao 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 ok quella che mi interrompe i video l'avete conosciuta ma che devo andare a grado che cazzo ne so ok ok che mi scrive su facebook ma ma che cazzo vabbè comunque sta roba era epica vero era epica fa conoscere mia madre nel streaming che tanto poi cancellerò insomma nasconderò esatto esattamente abbiamo capito però dovrei capire come si fa perché si può mettere anche altre aspetta un attimo aspetta aspetta siete giocco appunto perché poi si ti aggiungo nelle persone possono sentire anche da giusto ahaha scoperta ok deve essere andrà a poti sempre non so aspetta vado su google mi conoscuro andrà a poter sì vedete il profilo per internet link anche il profilo facciamo anche prima un altro che è interessato guardare solo giungo anche ai commenti del video il link del mio profilo di google classico link non possono essere seri siti vaffanculo giochi a replay giochi a replay cosa cavolo giochi a replay giochi a replay giochi a replay si replay no replay si replay no replay che cavolo è giochi a un livello di mv3 adesso no perché come ho già detto i b in full skill non funzionano direi che possiamo anche interrompere lo streaming così vedo anche come ha funzionato tranquilli ragazzi per i futuri streaming ovviamente metterò un avviso basta ok da vostro shen è tutto per questo test e ci vediamo al prossimo video bye bye ciao ciao